Oggetto di questa video lezione è il cinema italiano oggi, ovvero il cinema italiano prodotto negli anni 10 del 2000. Gli anni 10 del 2000 sono stati per il cinema italiano sicuramente un momento particolarmente felice, potremmo dire addirittura una sorta di rilancio verso anche il mercato internazionale ed è quello di cui oggi parleremo. Il cinema italiano negli anni 10 del 2000 da un lato ha ritrovato questa vocazione a parlare ad un pubblico internazionale, a realizzare cioè un cinema a carattere universale, dall'altro attraverso una commedia anche satirica è tornato a parlare in termini critici della realtà italiana. Ora, naturalmente, gli anni 10 del 2000 sono caratterizzati da alcuni film italiani in particolare. Questi film adesso andremo ad indagare singolarmente. Il primo, anche in ordine di tempo, è un film del 2013. Il film si intitola La Grande Bellezza e, come noto, nel 2014 ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua non inglese, quindi ha avuto il più alto riconoscimento che l'industria cinematografica mondiale assegna ad un film straniero, appunto, in lingua non inglese. Ormai il cinema all'80% è un cinema in lingua inglese dal punto di vista del consenso popolare. Quindi il premio Oscar a questo film, alla Grande Bellezza, ha sancito un fenomeno planetario, quello di un film che ha saputo, un film italiano che ha saputo, dopo tanti anni, parlare ad un'audience internazionale. Ma cos'è la grande bellezza di cui parla il film? Qual è la grande bellezza a cui allude il titolo dell'opera di Paolo Sorrentino? Bene, su questo punto possiamo a lungo discettare, perché in realtà il film non è semplicemente un'opera realistica, ma è un'opera che ha come caratteristica principale quella di ascriversi al registro grottesco. Quindi essendo un film grottesco, la Grande Bellezza parte, come abbiamo detto anche in precedenti lezioni, da una base di realtà. La realtà viene presupposta per poi però assurgere ad un livello surreale, quindi una realtà che viene portata ad un grado differente, attraverso la sua deformazione, perché il grottesco è la realtà deformata, ma per quanto deformata la realtà ci viene restituita nel grottesco, ed è quello che fa anche il film La Grande Bellezza, che si propone di raccontare l'Italia di oggi, ovvero si propone di dare una rappresentazione, per quanto appunto deformata, della realtà italiana di oggi. Ed effettivamente questo è un punto che il film coglie con assoluta precisione. Di cosa parla il film? Il film è la storia di un intellettuale, Gepp Gambardella, interpretato da quel Tony Servillo, che in precedenza abbiamo visto essere stato il protagonista del divo, dello stesso regista, Paolo Sorrentino. Gepp Gambardella è un intellettuale ultra sessantenne in crisi di ispirazione. Attraverso la figura di questo intellettuale diventato sostanzialmente improduttivo, il regista vuole rappresentare una realtà, quella italiana, che, come dire, è diventata sostanzialmente asfittica dal punto di vista intellettuale e culturale. Infatti La Grande Bellezza è un titolo che possiamo leggere in questi termini. L'Italia è una grande bellezza. Roma, che è la città dove il film si svolge, che è la capitale d'Italia, quindi parlando di Roma si parla di tutto il paese, è piena di grandi bellezze. monumenti, soprattutto, vestigia, ovvero resti di un antico passato. Ma questa grande bellezza, che pur esiste, è completamente rimossa dagli italiani. Infatti noi abbiamo da una parte la città di Roma, meravigliosa, dall'altra gli italiani. Pensate per esempio all'inizio del film, alle prime due sequenze. In sostanza, le prime due sequenze della Grande Bellezza sono due sequenze della Dolce Vita rovesciate. Si è detto molto di quanto questo film, La Grande Bellezza, sia debitore a Federico Fellini e in questo caso lo vediamo perfettamente. Ora, se vi ricordate la famosa sequenza della Dolce Vita, o meglio, la doppia sequenza, in cui prima assistiamo alla scena del night con Marcello, Anita Egbert, Adriano Celentano, questo night volgare in cui l'antichità viene restituita in modo dozzinale, taroccato, decisamente trash. E poi, dopo questa sequenza, la sequenza della Fontana, la famosa sequenza in cui Silvia, l'attrice interpretata da Anita Egbert, fa il famoso bagno nella Fontana di Trevi ed invita Marcello a seguirla. Marcello, come here. Ecco, queste due sequenze, che sono nel film La Dolce Vita attaccate, le ritroviamo in qualche modo posposte all'inizio del film La Grande Bellezza. Perché come inizia La Grande Bellezza? La Grande Bellezza inizia nel momento in cui vediamo un gruppo di turisti giapponesi che stanno ammirando una fontana, una meravigliosa fontana, un meraviglioso monumento di Roma. Uno di loro, a un certo punto viene colto da smarrimento, perdi sensi e cade a terra. Siamo praticamente nell'ambito della cosiddetta sindrome di Stendhal, ovvero ci sono delle persone che di fronte ad opere artistiche così importanti non riescono a sopportarne la visione, la forza anche estetica, arrivando a perdere i sensi. Questa è la sindrome di Stendhal. Quindi abbiamo la grande bellezza, questa meravigliosa fontana di Roma, che gli stranieri, in questo caso un gruppo di turisti giapponesi, prende per quello che è, cioè qualcosa di meraviglioso. Mentre vediamo che gli italiani che sono presenti in quella sequenza di questa fontana fanno un uso completamente diverso. a un certo punto c'è un uomo in canottiera particolarmente volgare che addirittura si bagna le ascelle con l'acqua della fontana. Quindi quello che per i turisti giapponesi è un simbolo, un monumento, è anche qualcosa che attiene a un'idea di purezza, l'acqua che scorre, per l'italiano è semplicemente qualcosa di cui fare uso, è acqua come quella del lavandino con cui si può tranquillamente pulire le ascelle. Quindi già vediamo questa forte dicotomia, la grande bellezza e gli italiani. D'altra parte appena prima che venisse inquadrato il gruppo di turisti giapponesi abbiamo già visto alcuni italiani, una donna truccata in modo particolarmente vistoso e volgare, seduta su una panchina, che sta leggendo un giornale. Abbiamo, come dire, un'idea di italianità che afferisce a un universo sostanzialmente di volgarità, di persone che sono prive di culture, che sono completamente disinteressate anche a qualsivoglia approfondimento culturale. Differenza invece dei turisti giapponesi che si incantano davanti a questa fontana e oltretutto sentono dei canti, dei canti misteriosi, dei canti che hanno delle rimembranze che affondano in un passato arcaico, canti ebraici, canti di cui non possiamo in realtà comprendere le parole, che però risuonano in noi come una sorta di eredità, di testimonianza lontano che non stiamo più oggi in grado di comprendere. Ecco, questa è la prima sequenza che per certi versi sta come la sequenza della fontana nel film di Fellini. Ecco, e se ricordate, prima della sequenza della fontana nel film di Fellini c'è appunto, come detto, la sequenza del Knight. La sequenza del Knight invece nel film di Sorrentino, all'inizio della grande bellezza, è subito dopo la sequenza della fontana con i turisti giapponesi. Infatti c'è uno stacco netto e da questi canti arcaici, gregoriani, ebraici e quant'altro passiamo ad una orribile musica da discoteca che accompagna il dimenarsi di un'umanità che poi rappresenta per certi versi l'intelligenza del paese, la classe dirigente, appunto questa umanità che si dimena su una terrazza romana parlando in modo sguagliato, volgare, praticamente costruendo anche frasi senza senso, no? C'è un'umanità che vive di notte, un'umanità che ha dimenticato appunto che si trova al centro di una grande bellezza. Ecco perché quando si parla della grande bellezza, soprattutto quando se ne è parlato, quando il film è uscito e si è fatto riferimento a Fellini, perché sono molti, come ho detto appena adesso, i riferimenti del film al cinema di Federico Fellini. D'altra parte la grande bellezza come La Dolce Vita è anche un film sulla città di Roma. Naturalmente La Dolce Vita è un film sulla città di Roma nel 1960, nel momento in cui Roma era la capitale dell'intrattenimento mondiale, gli anni della cosiddetta Hollywood sul Tevere, quando molti dei grandi colossali americani, per esempio Ben Uro, Vacanze Romane e Clopatra, venivano girati a Roma, quindi Roma era proprio una capitale dell'intrattenimento. Mentre La Grande Bellezza è un film sulla Roma del 2013, cioè una Roma che ha perso anche questa vocazione, che è diventata una sorta di scheletro, no? Vuoto, senza più carne. Quindi un film che rappresenta anche una forte denuncia su un decadimento dei costumi, della cultura, della società e di questo paese. Infatti il film quando uscì nel 2013 divise nettamente l'opinione pubblica anche tra coloro che ritenevano che il film mostrasse dell'Italia un'immagine troppo negativa, no? Qualcuno ritirò fuori anche delle frasi simili a quelle che aveva pronunciato Andreotti in occasione dell'uscita del film Umberto D, no? condannando un po' le pratiche di denuncia della realtà del neorealismo. Giulio Andreotti aveva sentenziato i panni sporchi si lavano in casa, ovvero il cinema italiano non può mostrare quello che in Italia non funziona, perché l'Italia è invece un paese che deve essere raccontato in modo diverso, perché l'Italia è un paese progredito. Questo diceva Andreotti nel 1952 condannando sostanzialmente le pratiche neorealiste, prendendosela in particolare con Umberto D, il capolavoro di Vittorio Desi, che anche all'uscita della grande bellezza molti opinion makers, molti intellettuali anche italiani, politici, hanno detto no, questo film rischia di mandare fuori dal nostro paese un'immagine troppo negativa dell'Italia. E tuttavia però questa immagine, per quanto ritenuta dal cui negativa, ha colpito nel segno, perché evidentemente all'esterno del nostro paese molti hanno del paese la percezione che Sorrentino ha trasmesso con questo film, che quindi è un film straordinario al di là del valore estetico, proprio perché ha rimesso il cinema al centro del dibattito culturale. Il cinema italiano, in modo particolare, il film ha avuto un grande successo, è stato presentato al Festival di Cannes, una volta proposto anche in televisione è stato nuovamente al centro di dibattiti, di polemiche, quindi quando il cinema, quando un film italiano riesce a scatenare un dibattito su così larga scala, beh credo che questo non possa che essere salutato come un aspetto estremamente positivo. I film devono anche far pensare, i film devono intrattenere, senz'altro i film devono avere anche una vocazione popolare, ma tuttavia i film devono anche trasmettere delle idee, quindi benvengano film come La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, che oltretutto è uno di quei film che noi possiamo vedere, rivedere, interpretare, ci possiamo dividere anche sull'immagine che viene data della città di Roma e quindi del paese, molti magari si fermano a quella che è l'impressione superficiale, alla dimensione letteraria, però siamo nel grottesco, quindi dobbiamo sforzarci di accedere alla dimensione metaforica del film, solo in questo modo siamo in grado di comprendere in profondità quello che il film ci racconta, il film che poi è pieno di strati, un film molto stratificato, si apre con una citazione di Céline, il viaggio al termine della notte, quindi l'idea del viaggio, ma di un viaggio come in Céline appunto nel segno del grottesco, quella dovrebbe essere per noi una chiave addirittura per interpretare il film, il film non vuole essere realistico, non siamo dalle parti del neorealismo, siamo dalle parti del grottesco, quindi un cinema molto più vicino a Fellini piuttosto che a De Sica o Rossellini. Teniamo conto che i debiti di questo film con Fellini sono molteplici, abbiamo parlato della dolce vita, però nel raccontare un intellettuale, quindi in qualche modo un artista, uno scrittore, in crisi di isperazione non possiamo non pensare al film di Fellini, Otto e mezzo, che racconta proprio la storia di un regista, lo stesso Fellini anche se interpretato da Marcello Mastroianni, che non riesce a fare un film. Quindi questa idea di aridità intellettuale che si viene a creare accomuna i due film, La Grande Bellezza e Otto e mezzo di Federico Fellini. Poi oggi possiamo dire proprio quest'anno si festeggiano, si celebrano i cento anni dalla nascita di Federico Fellini e possiamo vedere quanto il cinema di Fellini sia ancora estremamente influente nella scena internazionale. Pensate semplicemente a un film come Roma, di Cuaronna, che fin dal titolo è un film che si riferisce ad un analogo film di Fellini che si chiama appunto Roma, anche se nel caso di Cuaronna Roma è un quartiere di città del Messico e non è la capitale d'Italia. Roma di Cuaronna è un film in bianco e nero, similmente a come sono in bianco e nero buona parte dei film di Fellini. Roma di Cuaronna ha una scena in cui a un certo punto vediamo un'auto intrappolata nel traffico che ricorda da vicino una scena analoga che è all'inizio del film Otto e mezzo di Fellini. Quindi come vedete i rimandi, i debiti sono molteplici, potremmo continuare davvero all'infinito o quasi. La Grande Bellezza quindi è un film che segna gli anni 10 del 2000, un film grottesco, un film che ha un enorme successo internazionale, un film che mostra un'immagine del paese, per quanto surreale, comunque dotata di realismo, perché nel grottesco il realismo è la base, poi la realtà viene deformata. È come se con il grottesco ci venisse restituita la nostra immagine come succede nei Luna Park con quegli specchi che la deformano e tuttavia, anche se deformata, la nostra immagine è quella reale. Noi dobbiamo capire che è deformata, ma tuttavia vediamo anche la realtà della nostra immagine. Così dobbiamo interpretare, sforzarci di interpretare un film come La Grande Bellezza. Negli anni 10 del 2000 si realizzano in Italia, abbiamo detto, alcuni film particolarmente significativi. È un momento di rilancio della cinematografia italiana. Nel 2014 viene realizzato un film che si intitola Smetto quando è, voglio, una pellicola che racconta la storia di un gruppo di giovani ricercatori universitari che non hanno lavoro, non hanno soldi e quindi per mantenersi, per guadagnare qualcosa, decidono, grazie alle loro abilità anche scientifiche, alla loro intelligenza di ricercatori, decidono di mettere in commercio delle smart drugs, ovvero delle droghe vendendo le quali possono fare dei soldi. Ora, naturalmente questo è un po' un paradosso, però la legge italiana permette che vengano, come dire, smerciate delle sostanze, in qualche modo psicotrope, se queste sostanze non rientrano nell'elenco del ministero degli interni. Cioè vuol dire che una droga, per essere tale, deve essere conosciuta nella sua composizione, ma i protagonisti del film sono talmente geniali che di droghe ne inventano di completamente nuove, quindi riescono, come dire, a guadagnare in un confine tra la legalità e l'illegalità. Naturalmente si tratta evidentemente di un paradosso perché siamo nell'ambito della commedia, anche della commedia, se volete, un po' delirante, un po' irrealistica. I colori stessi del film Smetto Quando Voglio sono colori, diremmo lisergici, un po' irreali, tendenti a una rappresentazione della realtà come se fosse quella mediata dall'uso di sostanze psicotrope. Il film è però interessante perché al di là di questo soggetto più o meno fantasioso, più o meno paradossale, racconta e affronta un tema fondamentale del nostro paese, cioè attraverso una commedia apparentemente così disimpegnata, così divertente, anche paradossale, viene affrontato un tema invece che è all'ordine del giorno del dibattito socio-culturale nel nostro paese, ovvero la mancanza di meritocrazia. Questo viene ritenuto uno dei grandi mali del nostro paese, ovvero l'impossibilità di gratificare il merito, cioè di riconoscere le persone che valgono il giusto merito. Spesso nel nostro paese non vale il criterio del merito, ma vale qualche altro criterio, e naturalmente qui mi fermo perché potete immaginare quali sono gli altri criteri che possono valere in mancanza di criteri meritocratici. Tutto questo il film lo affronta, lo affronta in modo divertente, tuttavia centrando questo bersaglio, questo aspetto di denuncia di una realtà italiana che non funziona nel film, esiste e viene assolutamente centrato. Il film tra l'altro ha un grande successo di pubblico, tanto che vengono realizzati altri due film, cioè ovvero due sequel. Dopo Smetto quando voglio, di Sidney Sibilia, lo stesso regista, realizza Smetto quando voglio Masterclass, Smetto quando voglio Adonore. Continuando a raccontare la storia di questi giovani ricercatori universitari, di queste eccellenti menti che vengono appunto discriminate da un sistema che non premia il merito e che continuano appunto a produrre queste smart drug, finché appunto a un certo punto per fortuna le autorità non li fermano. Quindi un paradosso per raccontare però una realtà, una realtà in cui tanti giovani, ahimè, si rispecchiano. Ecco perché il film ha avuto poi questo grande successo in Italia. Perché evidentemente i giovani italiani si sono riconosciuti in questi giovani protagonisti del film, trenta, quarantenni, che pur avendo i mezzi, pur avendo le qualità, i mezzi intellettuali, i mezzi scientifici, le qualità, non sono nel nostro paese sufficientemente riconosciuti e premiati. E questo riguarda anche un po' il discorso dei cosiddetti cervelli in fuga. Spesso in Italia si sente parlare di cervelli in fuga, ovvero di persone di grande qualità che per trovare un lavoro che riconosca i loro meriti sono costretti ad andare all'estero. Questo è il fenomeno dei cervelli in fuga che in qualche modo la serie Smetto Qualche Voglio, quando voglio, presuppone. Cioè in qualche modo è una serie che si riferisce anche a questo, cioè si riferisce a un'attualità. Quindi siamo dalle parti anche di una commedia satirica, perché siamo dalle parti di una commedia che denuncia il costume della società, comportamenti censurabili, deprecabili della società. Appunto come quello di una società che non riconosce, che non rispetta il merito, ma che addirittura l'umilia, sostituendo la meritocrazia pratiche censurabili e condannabili, come quelle che tengono in conto tutt'altro i fattori rispetto al merito. Questa è una piaga indubbiamente italiana e purtroppo non sola. Negli anni dieci del 2000 ci sono altre commedie che raccontano la realtà in modo efficace, in termini satirici. Ne voglio citare almeno un'altra, che è Come un gatto in tangenziale. È un film di Riccardo Milani, è un film del 2017, ed è un film che racconta una sorta di scontro di civiltà. Siamo a Roma, c'è un uomo di grande successo nella sua professione, che lavora a Bruxelles, un uomo che fa uno di questi lavori, diciamo, moderni, una sorta di burocrate della Unione Europea, che ha una figlia. Questa figlia, che è la figlia di un uomo che appartiene, diciamo, a una fascia altoborghese della società, si innamora, si fidanza con il figlio di una coppia di proletari, ovvero con il figlio di una coppia di persone che appartengono alla fascia più bassa della società. Quindi mentre il nostro protagonista, interpretato da Antonio Albanese, il padre della ragazza, vive appunto in un contesto di ricchezza, quasi di lusso, i genitori del fidanzato e della figlia invece vivono in un quartiere popolare, nell'estrema periferia romana. Ecco, quindi questa relazione non può che causare uno scontro tra le due famiglie, scontro tra le due famiglie, che viene risolto in modo assolutamente divertente, perché si mettono in risalto, come dire, tutti gli aspetti, gli elementi che dividono queste due classi. Chi sta in alto spesso pensa di capire quello che provano le persone che stanno in basso, in realtà ne è talmente distante da non riuscire più ad interpretarne, come dire, i bisogni, i desideri. Quindi è necessario che questi due mondi in qualche modo arrivino più o meno ad un terreno di intesa, ad uno spazio comune in cui potersi confrontare, che è quello che poi, sebbene a fatica, avviene nel film, alla fine del film, perché essendo una commedia naturalmente il finale non è drammatico, non è più la commedia l'italiana, la commedia l'italiana, quella degli anni 60, quella del boom, abbiamo detto essere una commedia che finisce in modo drammatico, perché il finale drammatico amplifica i termini della denuncia critica della società contemporanea. Ecco no, come un gatto in tangenziale, che è un ottimo film, un'ottima commedia, una commedia nei giorni nostri, è una commedia che non ha molti punti di riferimento con la commedia all'italiana, se non in questa capacità di raccontarci in modo divertente, il presente, denunciando poi quello che nel presente, come dire, non funziona. E questo viene fatto oltretutto da un ottimo regista come Riccardo Milani, appunto che è uno dei registi italiani più importanti, senz'altro, di questi ultimi vent'anni di cinema italiano. Negli anni 10 del 2000 naturalmente vengono realizzati molti altri film importanti, in realtà ve ne sono almeno due di cui dovremmo parlare in queste lezioni e sono due film che hanno avuto, per motivi diversi e sotto anche aspetti completamente diversi, un enorme impatto sul pubblico, perché uno che è Perfetti Sconosciuti ha avuto un impatto mondiale, perché racconta una storia universale che può essere declinata in tutte le culture e in tutte le società dei paesi di tutto il mondo. L'altro, invece, Cuovado, è un film che ha parlato soprattutto agli italiani e tuttavia, tanto Perfetti Sconosciuti quanto Cuovado, sono due film talmente importanti che credo richiedano proprio una video lezione ad hoc e sarà la prossima. Chiudiamo però gli anni 10 del 2000, chiudiamo, diciamo, questo lungo decennio che, come detto, per motivi diversi rappresentano un rilancio del cinema italiano, parlando di un film che negli ultimi anni è senz'altro stato il più importante prodotto in Italia, sicuramente tra i primissimi più importanti. Questo film si intitola Dogman, è un film di Matteo Garrone, è un film tratto da un fatto di cronaca ed è un film che racconta la morte di un piccolo delinquente ad opera di un personaggio, di un povero lavoratore che da questo delinquente viene vessato per tutta la storia del film. A un certo punto questo personaggio, che nel film è proprietario di un negozio di tolettatura per cani, si ribella alla prepotenza, all'arroganza di questo delinquente e lo uccide. Ecco, questa storia, così drammatica, non priva anche di momenti di forte violenza, è una storia che si ambienta in una periferia degradata del paese. Ecco, quello che il cinema italiano fa negli ultimi anni è anche raccontare la periferia, raccontare le aree degradate del paese. Il cinema italiano per molto tempo è stato un cinema romano, perché il cinema italiano si faceva Roma, si faceva cinecittà, era ambientato nelle strade di Roma o in luoghi immediatamente adiacenti. Ecco, negli ultimi anni, grazie anche alle nuove tecnologie, grazie alla necessità o alla mancanza di necessità di dover necessariamente girare in teatri di posa, si è veramente allargato a livello geografico. Oggi in Italia i film si girano dappertutto, in tutte le regioni, questo fino a qualche anno fa non era scontato. E allora si è iniziato a raccontare le periferie anche, si è iniziato a raccontare anche i luoghi più marginali e degradati. Infatti questo film, Dogmen, si ambienta in una sorta di monumento proprio alla speculazione edilizia, al degrado socio-culturale ambientale di questo paese, che è il villaggio Coppola, a Castelvolturno. Quindi questo film ci racconta anche come il nostro paese abbia subito uno sviluppo anche sconsiderato, cioè come il nostro paese anche nel suo allargarsi dal punto di vista urbanistico, espandersi, non abbia tenuto conto di quelle che sono le necessità delle persone, non abbia pensato di creare degli spazi di vivibilità, ma abbia pensato semplicemente a costruire una sorta di enorme gabbia che contenga la popolazione. Ecco, senza pensare che poi queste costruzioni, queste mostruosità, spesso edilizie, devono essere anche vissute, devono comunque essere umanizzate in qualche modo. Quindi questo film si ambienta in questa estrema periferia, il villaggio Coppola, ma tutto il cinema italiano degli ultimi anni parla molto delle periferie, parla molto delle aree degradate del paese, denuncia appunto una certa lassità, lassismo delle istituzioni che dimenticano, che in Italia dimenticano tanti luoghi, tante città, tante aree che spesso purtroppo vengono poi occupate dalla criminalità micro e macro criminalità, dalla piccola criminalità ma anche dalla criminalità organizzata e quindi dalle mafie. Ecco, c'è un cinema negli ultimi anni, un cinema italiano che parla anche di questo e quindi che denuncia anche quelle che sono purtroppo ancora oggi le rendite di posizione che nel nostro paese ha la mafia e tutte le malavite, tutte le forme di criminalità organizzata, ma anche della mafia. Per come è trattata nel cinema italiano vorrei poi dedicare una video lezione ad hoc, perché è un tema talmente importante, purtroppo ancora oggi talmente attuale che forse è il caso di approfondirlo proprio in modo specifico.